Il musicista per la danza E' mia intenzione portare all'interno di questo seminario la conoscenza dei vari stili di accompagnamento che si usano per la danza classica e portare la conoscenza delle differenze stilistiche musicali che vanno adoperate per la danza classica. Per i tre differenti stili delle tecniche storiche della danza contemporanea, esattamente per la tecnica Amphrey Limon, per la tecnica Cunningham e per la tecnica Grave. Questo corso ti porterà a comprendere e a poter anche improvvisare al pianoforte e alle percussioni, attingendo dal tuo repertorio personale, dai tuoi studi e imparare a giocare su quelli che sono i diversi stili musicali che si possono accompagnare alla danza. Come together, right now, over me Credo che sia molto importante per i partecipanti a questo seminario sapere che quello che impareranno in questo seminario sarà facilmente spendibile in quasi tutti gli istituti internazionali, professionali per lo studio della danza. Ti darà la possibilità di comporre e creare performance e potrai seguire ogni singolo passo, ogni singolo movimento sulla scena. Sapere accompagnare bene una lezione di danza significa anche avere un'abilità specifica per poter scrivere per il cinema e per il teatro. Can только inoxicENZ Scriviti al canale Scriviti al canale Scriviti al canale Nolles Grazie a tutti